9 startup su 10 falliscono. Sai qual è il motivo? La mancanza di fondi. Si stima che il 40% delle società non riesce a reperire capitali per la propria crescita. Per raccogliere capitali non basta una buona idea, ma serve una strategia e una struttura ben chiara. Bisogna sapere come preparare una presentazione di successo, quali errori evitare, cosa dire a un investitore e soprattutto come strutturare un aumento di capitale. Per affrontare queste sfide abbiamo lanciato la CFM Academy, una masterclass di 6 lezioni e 3 ore di consulenza personalizzata per fornirti tutti gli strumenti di cui hai bisogno e aiutarti a prepararti al meglio. Come Crowdfammy abbiamo analizzato oltre 5.000 progetti e raccolto più di 115 milioni di euro. Per questo motivo vogliamo offrirti la nostra esperienza e aiutarti a prepararti al meglio un aumento di capitale. Se ti iscrivi entro il 6 maggio c'è un'offerta speciale per te. Affrettati, le iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio.